Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Dopo il grande fratello Vip, Baru della Gerardesca dimentica Jessica Selassie con lei La ragazza che gli ha fatto tornare il sorriso è così bella che farebbe innamorare qualsiasi uomo Baru e Jessica.Avete visto la nuova fiamma di Baru? L'ex Jeffino ha una cotta proprio per lei Ecco chi è la bellissima che ha sostituito Jessica.Baru dimentica Jessica Nessuno si aspettava che è Baru della Gerardesca, nipote del più noto Costantino, avrebbe riscosso tutto questo successo Entrato più tardi, rispetto agli altri concorrenti, nel bunker di Cinecittà, è riuscito addirittura ad arrivare in finale L'ex Jeffino.Silenzioso, riservato ma anche tanto saggio e colto, il nipote d'arte ha conquistato il cuore dei telespettatori Nella casa più schiata d'Italia si è fatto conoscere per la sua amicizia tormentata con Jessica Selassie, la principessa etiope e vincitrice proprio della sesta edizione Geru.Nonostante Jessica abbia dichiarato fin dall'inizio i suoi sentimenti al bel nobile senza nascondersi dietro un dito, Baru ha sempre affermato di non provare amore per la Selassie definendola una persona meravigliosa ma con la quale non intraprenderebbe mai una relazione sentimentale Detto fatto, fuori dalla casa, oggi, il suo cuore batte per lei Chi è la bellissima che ha fatto capitolare l'ex Jeffino.L'enologo toscano ha una nuova fiamma Dopo l'addio definitivo alla vincitrice del GFVP6, Jessica Selassie, il suo cuore oggi sembra battere per un'altra donna La bellissima in questione è Valeria Nini.Valeria Nini.38 anni, infermiera professionale, blogger e influencer di successo, conta quasi mezzo milione di seguitori su Instagram Con un master e due lauree alle spalle, è colta, preparata e intelligente proprio come il nipote di Costantino della Gerardesta I due sono stati sorpresi a pubblicare delle Instagram Stories mostrando un luogo nel quale si trovavano insieme Immediatamente, i fan della coppia Baru e Jessica, soprannominati Geru, si sono rivoltati contro Valeria attaccandola, minacciandola e insultandola brutalmente su social Baru e Jessica.Un gesto, questo, davvero becero, di cattivo gusto e poco carino Baru non si è ancora espresso sulla questione né ha ufficializzato la sua frequentazione con la bella infermiera Ma a scambi tattici di like fanno intendere che tra i due c'è qualcosa Sarebbe la prima relazione sentimentale ufficiale per Baru dopo la fine delle sue passate storie con due donne importanti Il nipote di Costantino della Gerardesta ha avuto infatti una lunga relazione prima con Vittoria Cabello, attualmente concorrenti di Pechino Express, e poi con Maria Carla Boscono, un'attrice teatrale e famosa modella Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video